buonasera a tutti ragazzi in questo video parleremo dell'undicesimo episodio di zombie tsunami il clima è tornato normalmente anche nell'everest non c'è tutta quella temperatura forse possiamo trovare un po che nevichi nell'himalaya adesso vediamo vi auguro in dando una buona visione da tanto che non ci giochiamo eccoci qui raga le missioni quali sono non l'ho capito aspettate ma già è fatto che altro dovrei fare qua siamo a new york city raga la 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 perfetto se prendi a tutte le monete uguali dice il perfetto se no dice in perfetto anche se non lo dice perfetto l'himalaya un po di neve ma non è tanto che sciocco ci sono le bombe potevo anche fare così vediamo los angeles hollywood perfetto 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 no grazie terremoto ti pare ancora neanche il potenziamento ninja ho preso rushmore un'altra volta proprio qui li ho persi e 4 più un altro zombie perché non lo potrei perdere scherzo dobbiamo evitarlo ballon palloncino significa 10 zombie grazie elicottero mi hai rovinato la vita non ci credo non ci credo non ci credo tutti gli zombie ho ucciso e me ne è rimasto uno ed era difficile potevo farli cadere tutti ecco addio anche a questo qui forse non faremo niente nell'undicesimo episodio beh questo è tutto da vedere vediamo perfetto perfetto 5 bombe dobbiamo fare scoppiare dice la missione macchine ce ne sono bombe perfetto 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 imalaia ingrid dragon si trova dietro questa montagna bianca solo nella montagna un po' si è sciolto no ingrid dragon è dietro quelle montagne l'everest non si sa dove ma è il più alto che dice grazie mille rosemore no no guarder back cinque bombe dobbiamo fare scoppiare sempre se ci sono queste cinque bombe altrimenti mi arrabbio ecco ecco lo sapevo niente bombe visto tutto monete e ora finisce l'effetto che schifo ma certo guarda guarda quante bombe ora visto quante bombe sono venute attra guarda attra Grazie a tutti. Los Angeles, Hollywood, Tsunami, beccatevi quest'onda anomala gigante, ora quando il Vesuvio è l'asteroide, lo Tsunami sarà 60 metri, raga, stiamo iniziando ora l'evacuazione. Himalaya. Nooo, che disastro. Nooo, niente. Ah, ci siamo arrivati, ok. Niente missione, purtroppo. Vinci due premi con un suo biglietto della lotteria. Ah, possiamo fare anche le missioni. Perfetto. Appena fa, c'è tipo un potenziamento e non prendo ancora niente lo blocco, raga. Poi li prendiamo da dove vado, ok. Quarterback. Vediamo, ce ne sono bombe. Oh, vediamo. Oh, finalmente una. Ne mancano quattro. Che è successo, un miracolo. Ne mancano quattro. Qual è la, quelle due? Quattro! Poi. Grazie a tutti. Perfetto. Uffo. Perfetto. 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 L'Himalaya dai aiutami neve Mi auguro di trovare bombe Ne manca una Un'altra Un'altra ancora ancora Bello mi sta piacendo Ora i ninja raga Aspetta Vediamo se abbiamo vinto qualcosa Raga proseguiamo questo A ninja ci vediamo Perché ho fatto tipo A brodicicere Io dico dalle mie parti Cioè a vuoto Non ho fatto niente Solo perdere Perfetto Manca solo uno No ho fatto niente No ho fatto niente Non ho fatto niente Perfetto Himalaya 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 perfetto siamo morti schiacciati dal muro ed era quello che volevo zuppa di vipere parrucca di elvis abbiamo sbloccato niente il video si possa congodere qui raga beh ragazzi spero che questo video ovviamente dell'undicesimo episodio di zombie tsunami faccia in questo episodio facciamo tutto a voto ma non proprio tutto alla fine sblocchiamo il cappello di elvis se vi sia piaciuto esco al canale mi raccomando mettete un bel like seguici instagram e noi ci vediamo in prossimo video ciao a tutti